E allora i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche sono sempre più lunghi e c'è carenza di personale. Insomma gli italiani sono sempre più insoddisfatti del sistema appunto sanitario nazionale. Allora la domanda che ci vogliamo porre oggi è servizio sanitario nazionale, è emergenza? Lo giriamo subito a Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe. Buongiorno. Buongiorno Daniela. Sì è emergenza perché i principi fondanti sui quali nel 1978 è stato fondato il servizio sanitario nazionale, l'universalità, l'eguaglianza e l'equità oggi possiamo dire che sono stati ampiamente traditi e le parole chiave che condizionano la vita quotidiana di tutte le persone sono proprio gli interminabili tempi di attesa, le file lunghissime al pronto soccorso, la difficoltà, addirittura l'impossibilità di trovare un medico di famiglia, un pediatra vicino a casa, tutti gli aspetti che riguardano poi l'aumento della spesa privata che porta a sostenere spesso spese catastrofica, impoverire le famiglie e fino alla rinuncia alle cure. E passando anche per quelli che sono gli aspetti di migrazione sanitaria, in particolare dal sud verso il nord, che determinano ovviamente anche un incremento ulteriore delle spese. Bene, grazie, tra pochissimo torneremo proprio su questo articolo di giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, liste d'attesa da delirio a autorizzare i privati. Come la commentate? Ma tutto questo viene fuori un po' da una nostra analisi sulla mobilità sanitaria che fa vedere che di fatto abbiamo un paese spaccato in due, quasi 4,3 miliardi di denaro pubblico che scorre dalle regioni meridionali a quelle settentrionali e le regioni meridionali si trovano più in grande affanno. Teniamo conto che nell'adempimento ai livelli essenziali delle prestazioni, cioè quelle che le regioni sono tenute a erogare gratuitamente o dietro a pagamento del ticket, soltanto 14 regioni in Italia sono adempienti, quindi parliamo di quelli essenziali e di queste solo tre, l'Abruzzo, la Puglia e la Basilicata, stanno al sud. Quindi più di metà del Paese non è in grado di esigere nemmeno quelle che sono le prestazioni essenziali. È evidente che l'equilibrio pubblico-privato è qualcosa di molto delicato perché è quando il pubblico arretra inevitabilmente il privato avanza, quindi ci vuole una sana politica di integrazione del privato che non sempre riesce a essere integrativo perché spesso si prende più spazi di quelli che gli aspettano e inevitabilmente questo fa sì che la pseudo privatizzazione del servizio sanitario nazionale vada avanti senza che noi ce ne accorgiamo. Ecco, Presidente, ma il fatto che chi ha bisogno di fare un esame urgente per magari una patologia importante delle volte deve ricorrere al servizio privato, insomma, quindi ai privati, perché quello sanitario ci sono appunto queste liste infinite. Sì, infatti rispetto alla domanda come se ne esce, credo che sia il momento storico in cui la politica, nel senso più ampio del termine, deve un po' decidere quale servizio sanitario nazionale lasciare alle future generazioni. In base a questo decidere quale quota di finanziamento pubblico assegnare e soprattutto quali riforme effettuare perché al di là del fatto che comunque, come diceva il collega Maggi, noi viviamo ormai 15 anni di definanziamento sul servizio pubblico, è anche vero che non lo riformiamo da 25 anni. Nel frattempo è cambiato il mondo, è cambiata la tecnologia, è cambiata l'informatica, è cambiata l'epidemiologia della popolazione, quindi non possiamo noi con pochi soldi e con vecchie regole tenere in piedi un sistema che in questo momento non riesce a soddisfare l'esigenza della popolazione. Quindi sono molti a pensare che questo rappresenti veramente la sconfitta del sistema sanitario nazionale, no? È così? Diciamo che di quel servizio sanitario nazionale del 1978 è rimasto molto poco perché si è involuto anche in senso prestazionistico perché è vero che i cittadini lamentano l'attesa per le prestazioni sanitarie, ma è anche vero che ci preoccupiamo poco del concetto di presa in cura. Il malato cronico a me non preoccupa il fatto di quanto tempo aspetti per una singola prestazione, ma del fatto che non venga presa in cura dal momento in cui deve fare la prevenzione, la diagnosi, la terapia, la riabilitazione, le cure palliative. Pensiamo al malato oncologico, quindi noi ci concentriamo spesso sulla singola prestazione e su quanto aspettiamo e non su quello che era l'obiettivo, l'obiettivo, e lo è ancora, del Servizio Sanitario Nazionale, cioè della presa in cura sociosanitaria del malato a 360 gradi. Ecco però, Cartabelotta, almeno le urgenze, no? Quelle vere, quelle che si dovrebbero smaltire 72 ore al massimo, sono garantite? Ma guardi, il problema sulla lista d'attesa è che noi abbiamo una grandissima nebbia, diciamo, fitta su cui non si riesce a fare luce. Tenga conto che l'Agenas, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, ha recentemente effettuato un'indagine sulle regioni chiedendole proprio tutta una serie di informazioni sui tempi di attesa. Sette regioni hanno risposto. Sette hanno risposto parzialmente, sette non hanno risposto completamente. Adesso, il 25 di gennaio, andrà in conferenza Stato Regioni un documento, le linee guida per la trasparenza dei portali web delle aziende sanitarie delle regioni, che probabilmente permetterà, diciamo, una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini perché oggi anche noi, come ente indipendente di ricerca, non riusciamo a fare delle analisi dettagliate sui tempi di attesa, proprio perché i dati non ci sono. Ecco, delle volte magari capita che, almeno si dice che le liste d'attesa, no?